ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftios.it questo tutorial vedremo come all'interno di una mappa richiamata appunto da mkmapview visualizzare un percorso fra due punti e quindi io ho richiamato abbiamo richiamato inserito anzi l'elemento mkmapview all'interno della nostra view vediamo anche nei vincoli quindi possiamo mettere otto punti per ogni lato perfetto abbiamo collegato l'elemento grafico al nostro file e richiamata la libreria appunto mapkit quindi la prima cosa da fare è andare nel view del load richiamare il delegate quindi mapview delegate e assegniamo self e richiamiamo e editiamo anche il protocollo mk mapview delegate quindi abbiamo editato l'mkview delegate l'abbiamo assegnato la nostra mappa e la seconda cosa da fare è creare i due punti da collegare quindi lo faremo nel view del load potete anche recuperarli tramite un form di inserimento da parte dell'utente quindi creeremo una variabile chiamata source source location quindi è la località d'inizio che sarà di tipo ccl location coordinate 2d e assegniamo la latitudine e la longitudine che io per esempio ho già recuperato quindi basta andare su int e recuperare questo di coordinata possiamo mettere la prima che è 1.759011 e come longitudine chiediamogli meno 73.985564 let ovviamente source 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 place mark che sarà la ma l'acqua ma marcatore ordinate e daremo il nostro il nostro source location e come dizionario gli daremo nil dopodiché gli daremo il destination destination local location location anche qui sarà di tipo cl location 2p gli daremo la nostra longitudine latitudine scusate che sarà 40.74 84 4,1 e come longitudine sarà meno 73 98 98 8,5,5 6,4 e qui invece era 98 98 4,4 7,2 40 98 4,7,2 40 4,1 e ok quindi la destinazione e la seconda faremo let source search page mark che sarà di tipo mk 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 classmate coordinate passeremo 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 al nostro destination local e qui passeremo nil quindi abbiamo creato i nostri punti di inizio e i punti di fine li abbiamo assegnati let let destino ma clutch mark ok quindi abbiamo creato le coordinate e l'abbiamo assegnato a questa variabile search place make e destination placard plac mannaggia trac mark uman trac mark ok e l'abbiamo assegnata a queste altre due variabili dopodiché creeremo la nostra source map items source ma items che sarà un tipo myk mk map items ripasseremo il nostro destination source map quindi ripassiamo la nostra variabile e ovviamente anche il source map item map e ripasseremo il nostro destination destination place make chiamato sempre source invece lo chiameremo the destination map items a questo punto creeremo il source value e qui mk point annotation e qui aggiungeremo la proprietà source annotation punto title chi daremo in questo caso ad esempio io ho messo times square quindi times square e daremo il titolo che poi verrà visualizzato uguale a times square e faremo if ok ok faremo un controllo quindi let location uguale a source punto location quindi se esiste source annotation coordinate uguale a local coordinate quindi facciamo un controllo se mi istituisce true ti assegno a source annotation coordinate la località coordinate faremo stessa cosa con la destinazione quindi last destination annotation quindi ovviamente queste costanti queste variabili voi richiamarle come volete sarà un'istanza di mk a mk point annotation anche qui e anche qui faremo destination annotation punto titolo empire state building heading ovviamente troviamo a new york e farò anche qui il controllo it's let location destination punto location uguale a true allora faccio a destination annoteto coordinate uguale a local location coordinate quindi dovreste aver fatto il controllo passiamo alla fase map quindi faremo self app view quindi richiameremo la nostra mappa faremo lo show annotetion come vedete vuole una un array di mk annotetion di tipo mk annotetion e quindi noi passeremo il search annotetion quindi l'inizio e destination area e triple true quindi animazione di tipo true dopodiché dobbiamo creare la direction request direction request che sarà un mk direction punto request non ha un membro perché non ha un membro mk direction perché maiuscola vuole e poi richiameremo la nostra direction request e assegneremo il search che sarà di tipo search map items che abbiamo creato in precedenza la direzione request destination quindi stiamo creando fisicamente il percorso che sarà il nostro destination map items direction request e diciamo che tipo di trasporto quindi è un emulatore quindi basta mettere il punto vedete any autoball transit walk camminando noi mettiamo ad esempio automobili dopodiché let direction mk direction request ed eccola qui ci da questa qui e noi daremo la direction request che ci chiede che abbiamo appena creato precedenza dopodiché faremo la direction request calcola no la di dire direction 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 ok calcola calcola ok qui mettiamo response error che ci chiede error in quindi faremo faremo un controllo un guard let response e response uguale a response altrimenti quindi se non è così se non è così all'interno faccio let error uguale a error e ci facciamo dire che tipo di errore si è verificato quindi faremo errore due punti li chiamiamo error se tutto invece è andato a boffine ovviamente return per uscire è un guard se invece tutto è andato a buon fine questo dov'è ex manca ok ctrl i se invece è andato a buon fine faremo let root response quindi se non si è verificato nessun errore chiederemo la nostra root in questa maniera faremo sel chiameremo la nostra mappa aggiungeremo un nove nove chiameremo root poly line virgola level mk over light level punto above roach roach c'è una virgoletta di troppo ok dopodiché creeremo le rette quindi root poly line il bound self ritiamo vediamo la nostra mappa essendo in una closer dobbiamo mettere il self se no ce lo modifica come errore set region no quale era questo qui set region mk coordinate region rect la nostra rect che abbiamo creato qui metteremo animate true perfetto adesso però dobbiamo creare la funzione che crea il disegno della retta adesso non vogliamo lanciarlo vediamo un po' che succede intanto ci notifica qualche errore ok vedete ce lo fa vedere l'approccio modifica nessun percorso time spread andiamo un po' adesso mettiamo l'appunc map view map view può essere questa allora faremo passeremo il nostro colore let render render serve mk poly polylight slide render over over light passeremo riassegneremo un colore color possiamo chiamarlo red render riassegneremo line quindi un 4 facciamo e ristituiamo render render mk 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 uesn mod mk 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 andiamo doubts in unKY show mk 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 la direzione, da dove deve arrivare e che tipo di mezzo di trasporto utilizziamo, abbiamo visto in questo caso l'automobile, la creiamo, calcoliamo, in questa quadra abbiamo messo che se c'è un errore si deve interrompere e ci dice il tipo di errore, abbiamo creato appunto il percorso root e l'abbiamo inserito all'interno della nostra mappa, mentre nella prima parte abbiamo creato i due punti, le coordinate, le abbiamo assegnate, create un map market con le coordinate di partenza e di arrivo, abbiamo creato degli atoms, quindi le annotazioni, queste tipi di annotazioni gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato timesquare, abbiamo controllato che le coordinate esistano, altrimenti non le assegna, stessa cosa per la destinazione, abbiamo sempre fatto un controllo, se tutto è andato a buon fine le abbiamo visualizzate nella mappa, quindi sono i due pin, i due pallini rossi, abbiamo letto la destinazione come ripeto da prima e appunto il tipo di colore e la linea, se noi adesso lanciamo, vedete, ero eccoli qua, partiamo da timesquare e ci dice il percorso per l'automobile più veloce per arrivare all'empire state verde, ovviamente come ripeto qui possiamo chiamare anche il colore, nero no dai, blu, blu, possiamo fare un 2, proviamo fare più fina, ed ecco qui vedete, ha fatto blu molto più fino, il percorso da arrivare dal timesquare all'empire state building, bene, anche per questo tutorial è tutto, vi ricordo che per domande e chiarimenti potete visitare il sito sitfios.it o commentare questo video, se il tutorial vi è stato utile potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial e lezioni, grazie e buona programmazione a tutti. In qualche parola, ripetiamo, abbiamo creato questa ultima funzione, il method, abbiamo creato la linea che collegherà i due punti, in questa parte abbiamo creato il percorso, quindi abbiamo metto la direzione, da dove deve arrivare e che tipo di, diciamo, mezzo di trasporto utilizziamo, abbiamo visto, in questo caso l'automobile, la creiamo, calcoliamo, in questa guarda abbiamo messo che se c'è un errore si deve interrompere e ci dice il tipo di errore, abbiamo creato appunto il percorso root e l'abbiamo inserito all'interno della nostra mappa. Mentre nella prima parte abbiamo creato i due punti, le coordinate, le abbiamo assegnate, create un map market con le coordinate di partenza e di arrivo, abbiamo creato degli items, quindi le annotazioni, queste tipi di annotazioni gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato timesquare, abbiamo controllato che le coordinate esistano, altrimenti non le assegna, stessa cosa per la destinazione, abbiamo sempre fatto un controllo, se tutto è andato a buon fine le abbiamo visualizzate nella mappa, quindi sono i due pin, i due pallini rossi, abbiamo detto la destinazione, come ripeto da prima, e appunto il tipo di colore e la linea. Se no adesso lanciamo, vedete, ed eccoli qua. partiamo da timesquare e ci dice il percorso dell'automobile più veloce per arrivare all'Empire State Building. ovviamente, ovviamente, come ripeto, possiamo chiamare anche il colore, nero no dai, blu, blu, possiamo fare un 2, dobbiamo fare più fina, ed ecco qui vedete, ha fatto blu molto più fino, il percorso da arrivare dal timesquare all'Empire State Building. Bene, anche per questo tutorial è tutto, vi ricordo che per domande e chiarimenti potete visitare il sito sitfios.it o commentare questo video. Se il tutorial vi è stato utile, vi lasciate un mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial e lezioni. Grazie e buona programmazione a tutti. Grazie a tutti.